Concludiamo il panel dando la parola a Pino Mussolino che anche lui diciamo andrà a chiudere un po' anche a tirare le fila. Sì, è sempre un ruolo complesso, parlare per quarto in un panel, a meno che uno non sia Fidel Castro a fare le conclusioni di 17-18 ore ai congressi, diventa complesso. Intanto permettetemi di ringraziare gli organizzatori che mi hanno voluto qui, particolarmente Valerio De Molli che ha insistito come un mastino, nel senso che poi non era comodissimo gli spostamenti, eravamo ieri con il Vice Ministro a Roma, abbiamo dovuto un po' girare mezzo mondo per arrivare. Però era un momento importante perché finalmente si faceva anche il punto su una situazione nella quale c'è molto fermento. Permettetemi poi di ringraziare personalmente il Ministro Musumeci perché ci ha fatto diventare finalmente centrali in una discussione. Una volta chi parlava di porti, chi parlava di mare, erano un po' gli sfigati della situazione, tutti quanti anche all'università. Io mi ricordo i colleghi parlavano di, io ho fatto giurisprudenza originariamente, tutti parlavano di fusioni, M&A, nessuno parlava di diritto alla navigazione. Quando diceva io vorrei specializzarmi in diritto alla navigazione, vabbè perché non hai altro da fare nella vita. Invece finalmente, grazie a tutta l'attenzione che nell'ultimo tempo è stata messa, parlare di porti, lavorare nei porti e sviluppare ragionamenti che ruotano attorno ai porti e alla logistica è diventato qualcosa di interessante. Addirittura in alcuni casi molto interessante perché nelle città portuali, credo che Pasqualino o Rodolfo possano confermarlo, adesso anche il macellaio ti ferma e dice Presidente, ho un'idea su... ecco, mi pare eccessivo. Al di là delle battute, importante che sia stato fatto il CIPOM, io credo che sia un modello estremamente interessante, che è poi quello che aveva fatto già la Francia con un direttorato specifico, direttamente collegato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che parla di questi temi. Perché, e ha ben detto Luigi Merlo prima, i porti non sono più, e non lo sono già da tempo nelle realtà più avanzate, meri snodi logistici, non sono più luoghi dove si arriva con una nave, scarichi sotto forma di big bag piuttosto che di contenitori, delle merci e da lì se ne vanno via. I porti sono dei grandi contenitori di impresa, potremmo, se volessimo fare i raffinati, definire degli ecosistemi complessi di impresa, nelle quali già il fatto che ci sei, cioè che sei coordinato con altre imprese, in questo cluster di impresa, crei valore aggiunto. Perché c'è l'operatore logistico, c'è l'industria, c'è quello che ti movimenta o ti svuota il contenitore, perché c'è quello che addirittura... la signora che fa i panini e che dà da mangiare ai lavoratori, si creano delle realtà complesse. I porti inoltre, soprattutto nel nostro caso, sono realtà già industriali o semi-industriali, che quindi hanno la possibilità di fare una riconversione di brownfield, di aree già dismesse o di aree parzialmente dismesse, non vanno a consumare nuovo suolo, sono già inseriti in complessi industriali o paraindustriali, hanno la possibilità di diventare i luoghi ideali per fare quella sperimentazione anche sulla transizione energetica, ma non solo, perché la sfida della sostenibilità è una sfida di cambio di processo, di modello di business, non solo di greenizzazione, anzi forse la parte di green dovrebbe essere quella che avevamo già fatto da tempo e non l'abbiamo fatta, noi come anche altri perché non flagelliamoci sempre. Quindi i porti sono, se volete, un elemento fondamentale all'interno di una catena più complessa. Però abbiamo una sfortuna nella fortuna, che è quella di, noi quando non facciamo notizia vuol dire che stiamo facendo bene, perché noi normalmente rileviamo nelle prime pagine, ahimè sfortunatamente quando muore qualcuno, quando succede qualcosa, quando la nave rompe l'ormeggio, mentre quando tutto funziona molto bene, non raggiungiamo la visibilità e questo è da un lato bellissimo, no? Come dicono gli inglesi, no news, good news, però dall'altro appunto ci rende protagonisti a fasi alterne e spesso per le parti negative. Quindi io vorrei tornare a questo, tanto concentriamoci sull'idea che i porti devono essere questo, devono essere degli elementi di crescita e di sviluppo fondamentale per interland industriali più o meno ampi. Il secondo aspetto è che chiariamoci su che cosa vogliamo da questi porti, cioè che cosa vogliamo fargli fare, perché secondo me è sbagliato parlare della casa partendo dal tetto. Il tetto è la veste giuridica. La veste giuridica, se volete, è a valle di quello che vuoi fare. Una volta che hai deciso che cosa vuoi fare con i porti, poi cominci a dargli delle norme e cominci a metterli dentro delle scatole. Quindi a me piacerebbe in questa discussione che capissimo che cosa vogliamo fare. Ad esempio, e lo dico laicamente, vorrei fare un ragionamento qui oggi come più da accademico, se mi è permesso, che da operatore e amministratore di porti. Non è vietato, secondo me, che si possa fare anche un ragionamento di spinta specializzazione dei porti. Non è detto che tutti i porti debbano avere una banchina passeggeri nella banchina loro, una banchina contenitore nella banchina rinfusa, perché ce l'ha il mio vicino allora devo farlo anch'io. Ecco dove, per esempio, entrerebbe, dovrebbe entrare a gamba tesa in senso positivo, un governo centrale. Come un buon padre di famiglia che prende i ragazzini che litigano intorno al tavolo e dice, cara, parlo per me, cara Civitavecchia, tu che sei leader in assoluto delle crociere e che stai lavorando bene su tanti temi, non è detto che tu debba avere tutto uguale a Napoli solo perché c'è Napoli. È vero che le spinte localisti che ti portano in questa direzione, ma io, governo centrale, ti dico che spendere 200 milioni qua, 200 milioni qua e 200 milioni là per fare tre doppioni che mai si riempiranno non è salutare e da buon padre di famiglia, governo centrale, ti dico no. Chiaro che, come dire, no, ministro, se lo dice il Presidente localmente domani mattina vengono col forcone e mi danno fuoco all'autorità, perché non lo puoi fare, insomma, ognuno di noi è capitano anche di una squadra locale. Però non è, credo, vietato e non penso sia vietato fare un ragionamento del genere a livello centrale. Altro aspetto, che è una mia vecchia fissa, non c'è, a livello del nostro Ministero, o di nessun Ministero non è mai stata fatta una ricognizione puntuale dell'offerta di banchine in Italia. Cioè, sappiamo quanto sono, quanti metri abbiamo di banchine e contenitori, se sì, quante sono al 100% della loro capacità di riempimento e se non sono al 100% di riempimento, perché non lo fanno? Ne abbiamo fatte troppe, le abbiamo sfruttate male, non le abbiamo valorizzate, le teniamo slegate, perché altrimenti ogni cinque anni ognuno di noi o i nostri successori arriveranno e diranno voglio una banchina in più, lo Stato dirà sì, ti do 100 milioni, 200 milioni, perché poi non è che costano poco, insomma, queste infrastrutture. Senza però sapere se abbiamo finalmente e pienamente e completamente utilizzato quelle che abbiamo. Ho fatto l'esempio del contenitore, ma potrebbe esserci la rinfusa, potrebbero esserci altre cose. Quindi, anche in questo caso, che cosa vogliamo fare con la riforma, piuttosto che con un'idea diversa di porti? Andiamo a verificare intanto. Siamo sicuri che tutto quello che abbiamo lo stiamo usando al massimo della nostra capacità, pienamente, e che ci serva nuova infrastruttura? O forse potremmo razionalizzare e usare meglio quello che abbiamo, intanto, e pianificare meglio le risorse che non sono infinite? Ma un po' a tutti ci è venuta l'ubriacatura da PNRR, pare che, insomma, ci siano soldi a perduto, ma anche in questo caso non è così. Al 31-12 noi abbiamo le prime scadenze, chi è riuscito a superare anche il cancro della burocrazia riuscirà a fare le obbligazioni giuridicamente vincolanti, una fatica, Ministro, incredibile. Però, poi, non è che finisce il mondo con il PNRR. Noi dovremmo continuare a fare pianificazione strategica di infrastrutture, di infrastrutture che si collegano, lo diceva molto bene il Vice Ministro Rixi, tu puoi essere un porto fichissimo, super efficiente, ma poi hai una collo di bottiglia a 250 metri e nell'Interland è morto il porto, non è che le tiriamo con le fionde, no, le merci. Quindi, anche in questo caso, ecco dove veramente potrebbe esserci un ruolo centrale, importante, alto, appunto, di governo, addirittura a livello della Presidenza del Consiglio. Poi un paio di battute, cerco di sfruttare bene il mio tempo, vi faccio, parlava prima di Europa, vi faccio un esempio di una norma che era quasi uscita, ma che è saltata non per merito nostro, ma per merito della parte mediterranea di Francia e Spagna, che se ne accorta, che è questa, interessante, sentite questa. C'era stata una proposta di regolamento europeo che diceva non sono aiuti di Stato i dragaggi fatti nei fiumi e lungo i fiumi. Diceva che ci frega, no, ci frega, perché i tre porti europei più importanti sono Anversa, Hamburgo e Rotterdam, che guarda caso sono porti fluviali, sono nei fiumi, no? Quindi, e guarda caso, quali sono tutti i porti non fluviali? Tutti quelli mediterranei. Se passava quella norma, i loro Stati avrebbero potuto finanziare i dragaggi come aiuto di Stato, perché non era aiuto di Stato, a Tocchi restava come, scusate il termine, come un pirla col cerino in mano, i porti mediterranei. Se ne sono accorti i francesi e gli spagnoli, lato mediterraneo, perché la parte a nord anche i francesi gli interessava, se passava quello noi eravamo morti da mo'. Ma non biasimo, lo faccio anche io nella mia quota a parte, il belga o l'olandese che ha provato a fare la carambata, biasimo me che ho dormito. Lui c'ha ragione di cercare di essere furbo, tra l'altro noi italiani abbiamo la mania che siamo convinti di essere i più furbi di tutti, poi arriva un belga che mangia le patatine fritte, col belga gli voglio, sono stati cinque anni in Belgio, amo il Belgio, non è che voglio sembrare, e alla fine ci prende per il naso. Le cose stanno nei dettagli, dicono i britani, il diavolo è nei dettagli, non è nelle cose macro. Allora noi su questo dobbiamo avere un presidio costante, perché in Europa si decidono cose importanti che poi hanno ricadute enormi a valle, quando poi magari noi siamo in altre faccende faccendate, appunto ricordava Luigi la questione dell'ETS, ma insomma appunto la questione dei dragaggi era lì, ci avrebbe ucciso, e anche in questo caso, una volta c'era una direzione speciale che si è occupata di tutti i dragaggi a livello nazionale, poi è scomparsa ed è rimasta all'interno dei porti. Io ho avuto la fortuna, l'onore di essere presidente del porto di Venezia, per cui sui dragaggi vi potrei fare dei simposi, ci ho perso le notti. È dai tempi di Hammurabi che i porti dragano. Ok? Sono 5.000-6.000 anni che i porti dragano, perché non sono strutture naturali spesso e volentieri, perché poi nel corso del tempo si è dovuto manutenerli. L'unico posto dove non si può dragare, e dove si deve rischiare la vita letteralmente, perché ogni volta che parli di dragaggio arriva qualcuno che ti sventola una manettina davanti al naso, e letteralmente a me è quasi successo. Ma non può essere, non può essere che fare il presidente d'autorità di lavorare è il lavoro più rischioso che c'è in Italia, subito dopo i pompieri e le forze dell'ordine. Diventa anche sgradevole da questo punto. No, 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 perché se lei prende 8.000 comuni, per rispettare la proporzione delle indagini che è stata fatta sui 16 presidenti l'altra volta, lei avrebbe dovuto avere nell'ultimo quadriennio 4.570 comuni indagati per corruzione. Mica tanto. Noi abbiamo avuto su 16 presidenti 9 sono finiti sotto indagine nell'ultimo quadriennio e tutti assolti. È anche sgradevole, perché a questo punto diventa complesso lavorare così, se poi con una mano mi chiedi la velocità, mi chiedi il mercato, mi chiedi l'adeguamento dei porti, mi chiedi di fare le opere, mi dici che devo essere come Anversa, e ma Anversa, il mio amico Jacques Van der Meijer, non è che va in galera tutti i giorni. Tra l'altro, ultimo ma non ultimo, nei vari disegni di legge, le proposte e quant'altro, ieri avete visto che noi abbiamo voluto, perché insomma usco e tandem, abbiamo dovuto rispondere al buon Zaccheo. A me piacerebbe una cosa, che si togliesse la presunzione di colpevolezza ogni qual volta qualcuno fa delle infrastrutture. Non credo sia una colpa, a me hanno dato la possibilità di fare il presidente un'autorità di sistema portuale, all'interno di questo c'è il compito di costruire delle cose, io non posso essere colpevole perché penso all'infrastruttura. Pensate, sul cold ironing abbiamo fatto una cosa bellissima, quando l'ho spiegata a qualche amico all'estero, mi ha guardato e poi abbiamo cambiato argomento. Io sono stato interrogato dalla Corte dei Conti in controllo con comitante preventivo, a parte il fatto che provate a tradurlo in inglese, è complessa come frase, controllo con comitante preventivo, ho fatto quattro ore di audizione alla Corte dei Conti un mese e mezzo prima che io bandissi la gara per il cold ironing. Non so se vi ricordate il film Minority Report dove arrestavano la gente prima che facesse il reato. Io sono stato quattro ore a spiegare alla Corte dei Conti che cosa avrei fatto su un bando che potevo cambiare visto che l'ho emesso un mese e mezzo dopo. Ecco, su queste cose poi il mercato viene da me e mi dice «Oh, ma Presidente, ma che stiamo facendo?» e io gli dico «Sai, ho appena fatto quattro ore di controllo con comitante preventivo». Ecco, non perché io volessi fare un peana o perché volessi farvi portare acqua al mulino dei poveri presidenti, no, facciamo anche un bel lavoro e siamo anche decentemente pagati. Però poi le persone reali, i mercati, gli investitori, gli investitori esteri ci chiedono tempi, modi e capacità che noi in questo momento non abbiamo. Quindi io non ho e non sono interessato e concludo tantissimo all'etichetta, mi chiami ente pubblico non economico, ente pubblico economico, SPA, SRL, società cooperativa, quello che vuoi, dammi gli strumenti e rendimi accountable. Cioè, mi hai dato un incarico, ho questo incarico, mi hai messo nelle condizioni di farlo, fra quattro anni verifichi se l'ho fatto, mi dai una pacca sulla spalla e se non l'ho fatto pacchi in testa. In mezzo vorrei poter semplicemente rispondere al mio governo, ai miei stakeholder locali, i miei stakeholder regionali, sì, sto facendo questo, sì, dammi una mano a fare questo, sì, stiamo portando avanti il Paese. Se lo facciamo potremmo garantire ai porti di avere questo ruolo importante di leva, di cinghia e di trasmissione della grandezza del sistema economico italiano. Se non lo facciamo, non questi italiani, ma gli italiani della prossima generazione verranno a prenderci e secondo me ci sputazzeranno in faccia.